A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In primo piano il maltempo che sta interessando la regione, ci colleghiamo subito in diretta al telefono con il nostro Ivan Bianchi per capire qual è la situazione a grado, dove era atteso per questa mattina il picco di marea. Buongiorno Ivan. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri amici. Io mi trovo, come hai detto tu, a grado, stiamo seguendo il fenomeno dell'acqua alta che per adesso sta scendendo. Il picco era previsto per le 10.40, come dicevo, ma l'acqua ha cominciato ad uscire già verso le 9.30, creando ingenti danni soprattutto a quelle che sono le attività commerciali di Porto Mandracchio, che è stata la zona interessata maggiormente. Ovviamente danni anche alla diga Nazario Sauro, come diciamo già nel telegiornale delle 11.30, si stimano circa 10 milioni di danni per tutta l'isola di grado. Fortunatamente però, un aggiornamento rispetto a quanto detto prima, i beni storico-architettonici, per cui le due basiliche, a parte il battistero che è stato sommerso, rimangono all'asciutto. Per cui dal punto di vista storico non ci sono danni. Dicevo, adesso le squadre della protezione civile stanno monitorando com'è la situazione, circa 2.000 i sacchi di stabia che sono stati distribuiti nella sola giornata di ieri. C'è stato un piccolo problema in inquinamento in zona piazza Oberdan, perché c'è stata un'autovettura che ha cominciato a spandere gasolio mentre l'acqua si stava ritirando. Ed è stato un momento concitato di lavoro per la protezione civile per settare di arginare quelli che sono i fenomeni di inquinamento. Sull'isola presenti numerose anche forze dell'ordine, fra cui polizia e vigili del fuoco e si provvederà nel primo pomeriggio, non appena l'acqua avrà dato un po' di tregua alle zone invasi dall'acqua, di procedere con le idropompe delle varie squadre della protezione civile. Ricordo che sono arrivate non solo quelle di grado, ma ovviamente da tutto il distretto basso del Cercisonzo e dalla bassa friulana. Per ora è tutto Alessandra, se ci sono domande dallo studio. Grazie, grazie a Ivan Bianchi, ci aggiorneremo nelle successive edizioni. Questa appunto la situazione a grado, terremo monitorata la situazione anche nelle altre località della nostra regione. Andiamo avanti con la cronaca, lutto nel mondo dei motori in regione, è morto per un improvviso malore il motociclista goriziano Pierluigi Mattioli del Motoclub Manzano. L'uomo di 57 anni era impegnato nella quarta giornata della 6 giorni di enduro a Pontimau in Portogallo, il più importante evento motociclistico in fuoristrada al mondo. È morto per un infarto mentre stava affrontando la prima frazione del trofeo vintage riservato alle moto d'epoca. È immediato l'intervento dei soccorritori con il trasporto in elicottero all'ospedale di Pontimau, ma per il pilota goriziano non c'è stato nulla da fare. Mattioli faceva parte della squadra del motoclub Manzano Regolarità Friuli, con cui nella stagione 2019 in sella ad una Asch Carna ha affrontato il campionato italiano Regolarità Epoca. Un pilota conosciuto sia nel motociclismo che nell'automobilismo. Sabato scorso Mattioli aveva partecipato alla festa per il cinquantesimo anno di fondazione della scuderia Gorizia Corse, intervenendo per ricordare gli anni dall'87 al 2010 in cui aveva preso parte a diversi rally difendendo come pilota i colori della scuderia goriziana. Spaccata nella notte al negozio di abbigliamento abito a Sacile, i malviventi hanno utilizzato la loro auto come ariete, infrangendo la vetrata del negozio. Hanno usato un'auto come ariete per sfondare la vetrata del negozio e poi rubare quanti più vestiti potevano. Così una banda di ladri questa notte ha fatto razzia al negozio di abbigliamento abito in viale Zancanaro a Sacile. Erano circa le 2.20 quando i malviventi si sono introdotti nel punto vendita sfondando la vetrata laterale. L'allarme si è subito attivato e ha fatto accorrere sul posto i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Sacile e la titolare di abito. Al loro arrivo non c'era traccia dei malviventi né dell'auto usata per abbattere la vetrina. Sul posto i carabinieri hanno trovato i resti di un fanale posteriore andato in frantumi. Dal negozio erano stati rubati quasi tutti i capi di abbigliamento, tranne alcuni lasciati indietro dai ladri per darsi alla fuga. L'azione, da quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno preso in esame le immagini della videosorveglianza comunale, il negozio non ne è provvisto, è stata repentina. I delinquenti hanno invocato a tutta velocità via Lezancanaro in contromano e in retromarcia hanno sfondato la vetrata razziando in pochi minuti quanto potevano, tanto che anche i residenti della via non hanno avuto il tempo di realizzare quanto stava accadendo. Ingenti i danni ad abito. Oltre alla vetrata rotta e il bancone danneggiato, i ladri hanno rubato un centinaio di capi per un valore di decine di migliaia di euro. Difficile quantificare per la titolare che ora procederà all'inventario. Rilievi e indagini sono state effettuate dal personale del nucleo operativo e della radiomobile insieme alla stazione di Sacile. I militari dell'arma adesso stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ma anche i lettori di targhe e alcuni elementi rinvenuti sul luogo del colpo per provare a risalire agli autori della spaccata. Fa il pieno di superalcolici, poi scappa senza pagare. Successo in un supermercato di Gorizia a lunedì pomeriggio. Un 55enne residente in Veneto, dopo aver riempito una borsa con degli alcolici per un valore di oltre 250 euro, è scappato senza pagare quando la porta si è aperta per consentire l'accesso di altri clienti. È stato un dipendente del supermercato ad accorgersi dell'accaduto e a inseguire l'uomo, bloccandolo poi nel parcheggio. Il personale della Polizia di Stato di Gorizia l'ha condotto in questura. L'uomo è stato arrestato. Ancora ladri che cercano di rubare nelle parrocchie. Dopo i quattro colpi segnalati dai sacerdoti nell'ultima settimana, arriva oggi la notizia di un nuovo episodio del genere nella parrocchiale di Campo Rosso a Tarvisio. Ieri sera i ladri hanno forzato la porta d'ingresso, messo a soquadro due stanze. Dal sopralluogo effettuato dai carabinieri della stazione di Pontebba non risulta mancare nulla. Sono stati ritrovati anche i sacchetti con i soldi delle offerte, che erano in bella vista. Probabilmente i malviventi erano alla ricerca di arredi liturgici preziosi, oppure sono stati disturbati dall'arrivo di qualcuno durante la loro incursione. Via Libera del Consiglio regionale nella serata di ieri alla riforma degli enti locali. Addio alle UTI, nascono le comunità. Inizia una nuova stagione per le autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, commenta l'assessore regionale Roberti. Superare le unioni territoriali intercomunali, UTI, oggi presenti in Friuli Venezia Giulia, entro dicembre 2020, e favorire la nascita di comunità, ovvero enti locali, a cui i comuni aderiranno volontariamente per l'esercizio associato di funzioni e servizi. È uno degli obiettivi della riforma degli enti locali, promossa dall'Aggiunta regionale e approvata ieri in serata dal Consiglio del Friuli Venezia Giulia, con 26 voti a favore, quelli di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Progetto FVG, Autonomia Responsabile, 14 contrari, PD, Cittadini, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra FVG e Movimento 5 Stelle e una stensione di SSK. In Friuli Venezia Giulia le province erano state abolite con la legge regionale 26 del 2014. Al loro posto erano nate 18 UTI, enti locali a cui avevano aderito gran parte dei comuni della regione. Dal 1 gennaio 2021 le UTI esistenti verranno sciolte o potranno su base volontaria assumere la veste giuridica delle comunità. Porteremo a casa una riforma alla fine che fa il bene del territorio, fa il bene del territorio, dei sindaci che da questo momento in poi potranno esercitare la loro autonomia davvero e non soltanto sulla carta, esercitando le funzioni che sono di competenza comunale, che non sono le semplici erogazioni di servizi, ma anche delle funzioni di sviluppo del territorio, come è così previsto dal testo unico degli enti locali, potranno farlo da soli o in forma associata se lo riterranno migliore per i propri cittadini. Tanta propaganda ma nessuna risposta concreta sul personale che manca e sulle risorse delle quali ci sarebbe tanto bisogno. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo, del PD sulla riforma degli enti locali. Poi aggiunge, rimane il dubbio che sia tutto un grande poltronificio. A questa regione ha aspettato un anno e mezzo la riforma degli enti locali che Federica e Roberti avevano promesso come primi atti della nuova giunta. Dopo un anno e mezzo la montagna ha partorito un topolino, tanta propaganda, la libertà che viene affidata ai sindaci è una libertà di star da soli, di unire magari le difficoltà che oggi i sindaci ci raccontano, ma non c'è risposta sul personale, non c'è risposta sulle risorse di cui ci sarebbe bisogno, non c'è risposta rispetto alla capacità di organizzare i piccoli comuni, soprattutto quelli più sofferenti, in realtà che possano progettare insieme, possano insieme presentarsi alla regione chiedendo le risorse necessarie. Alla fine rimane solo il dubbio di un grande poltronificio. Vengono creati nuovi presidenti, nuovi comitati esecutivi, direttori generali, nuovi commissari, tutti a pagamento. Il dubbio è che semplicemente la Giunta e questa maggioranza abbiano da soddisfare qualche amico bisognoso di visibilità. Presentato oggi il calendario dell'arma dei carabinieri a Udine. Vediamo. Quest'anno si è scelto di fare un calendario che è stato definito un calendario narrativo, un calendario parlante, un calendario che trasmette, prendendo dal quotidiano, trasmette quelle che sono le sensazioni del vissuto di ogni carabinieri. Si è scelto di andare a cogliere quelli che sono i fatti di cronaca, di cui voi avrete scritto migliaia di volte. E da questi fatti di cronaca, attraverso la penna di Margaret Mazzantini, farne dei piccoli racconti che accompagnano ogni mese del mese. Nelle pagine del calendario troverete quelle che sono quello che è il vissuto quotidiano di ogni carabinieri, le emozioni che affronta, le paure, le incertezze e anche le sensazioni che provano ad intervenire su fatti in caso di fatti di cronaca. L'appuntamento tra pochissimo dopo la pubblicità con a voi la linea. Arrivederci. L'appuntamento tra pochissimo dopo la pubblicità con a voi la linea.